Io credo che questa partita abbia comunque denotato un passo avanti importante sul piano anche della personalità di questa squadra. L'idea di gioco chiara, basata sulla ricerca della qualità del palleggio, di mettere le condizioni ai nostri giocatori di esprimersi al meglio. Io credo che dopo un avvio in cui secondo me il Pescara ci ha messo in difficoltà, soprattutto sulla corsia di sinistra, spinto anche da questo fantastico pubblico. Siamo mano a mano cresciuti, abbiamo preso in mano il pallino del gioco e io credo che se noi riusciamo a palleggiare possiamo far bene contro chiunque. Però rimaniamo con i piedi per terra, abbiamo fatto secondo me due ottime trasferte, sono molto contento di essere riuscito a non subire gol in tre trasferte che era una cosa importante, un segnale di solidità.